Benvenuti, finale del torneo 2 euro, casa e Kishi Shisha è uscito fuori, immediatamente, a mio parere, ovvero me stesso Dovrei alzare la sedia un po' più alto No, io devo stare dietro, lo sai? Che facci da torneo? Devo stare dietro io, lo sai? Eh, lo so No, dai, chiacca Stiamo preparando le formazioni Stretta di mano tra i due Questa spara a massetta delle orecchie perché non mi riesce il sangue E tu, e tu, e tu, e tu L'hanno visto con le rose E il piano zingaro È iniziata Vediamo Tacco da sinistra verso destra Real, ovvero S, Venom No, c'è infatti Ma te, che è una mega notte Tipo, vuoi una palla a sattuare o sì? C'è Tu vuoi farci che vuoi una palla a sattuare? Beh, c'è il bell'azio Bell'azio neanche Tipo, mannaccio di negri, che non so Ah, peccato Bella azione dei ghi, c'è Benzema 1-0 S Venom Snack Questa è come devo fare lo snack, è tipo pallonette Assurdo Se non la tirano normale, magari gliela tirano in bocca Infatti, quella è in base a quando carichi No, non è fallo Pitti on Mi ha tirato giù Mi ha messo il culo Morcoci Stava andando Il tuo pari è il controviate perché quello ti dirà Ah, è storto Abballava Ah, palo Non ho diventato C'è il cazzo Che dribbling Sta cazzo di canzone Non c'è quello che deve allargare le gambe Allarga più lui che cicciolina Porco, oddio Sta giocata con una Chi? Emiano, dite in generale Sta giocata bene Faccio la pupù La mucca fa mumu No Notare il silenzio di Kish Snyder infortunato Peccato Ci sarà un cambio Fuori Snyder Dentro Stankovic Oddio Perché sta verde Stano a vincere Stano a montare Appareggio Ti amo molto Non lo so La reggia penso sempre Stankovic E l'ho venuta E la reggia pensa Unагolino E la reggia Dove che il pelato malario di cancro Ma dovevi Che ti diano tumore Di capelli A cambiarsi Ma vi sembri di saltare La spina Ti faccio Dove che Ma no Stai prima Non può staccare E poi non è Ma l'altra parte Non è troppo lungo Sì, poi non lo posso postare. Non lo posso postare, però. Mi hanno aumentato il limite a 15. Dai, vinfupanda, venga che cazzo. Pupupu. Ah, c'è la mucca fa pupu. Pallo. Bella partita, piena di emozioni. Vabbè, meglio Tartalini. Sì, questo lo devo dire. Comento tecnico di Cristian Di Piazza. Brutta azione. Non è se cazzo. Ah. Ha arrivato il tiro centrale. Dai, ciao. Bella azione. Bella madonna. Che è Giovanna a Pesnino e Dieci parcava. Te lo ricordi Grì? Oh Dio, il tributo è bello. Mi sapeva nozze, mi sapeva nozze. E' riuscita fuori da lo scato. Come erano a farlo? Un minuto di recupero, dice l'arbitro. Bravo Shisha. Comenta Shisha. Stai vedere se stiamo. Stazioni che devono sbagliare l'ora. E' arrivato. E' arrivato. E' arrivato. E' arrivato divese di una larga. E... Finisce qui il primo tempo. Io... S-Venom 1, E-Kigi 0